Il santo del giorno Oggi celebrato San Guido Maria Conforti, ricordato come il fondatore dei missionari saveriani. Il sole è sorto alle 6.47, tramonto alle 16.54. E adesso le previsioni del tempo. Situazione tutto sommato stabile rispetto ai giorni precedenti, anche se per le prossime 24 ore sono previste nuvole un pochino più dense, in particolare lungo il litorale. Anche le temperature si manterranno sostanzialmente stabili, una lieve diminuzione nei valori massimi. E adesso le notizie del giorno, cominciando da quello che è un tema molto dibattuto negli ultimi giorni, quello del bypass ferroviario. La polemica è stata innescata pesantemente dall'europarlamentare ed ex sindaco di Pesero, Ricci, che in un convegno organizzato dal PD Fanesi ha denunciato quello che ha paventato come uno scippo ai danni del territorio. Gli 1,8 miliardi destinati dal governo Draghi al bypass ferroviario, che il governo Meloni intenderebbe riversare invece sul progetto di potenziamento, in pratica di raddoppio, della linea adriatica. Torna sulla questione oggi l'assessore regionale delle infrastrutture Baldelli. Il vostro bypass è un non progetto, soltanto per Pesero non si può fare il virgolettato attribuito appunto all'assessore in quota Fratelli d'Italia. Baldelli replica così al comitato che si è costituito in questi giorni a Pesero e che ha lanciato una raccolta di firme per lo spostamento della ferrovia. Baldelli entra nel merito di quello che appunto definisce un non progetto e che sarebbe caratterizzato, si legge all'interno dell'articolo, da viadotti alti 12 metri che comporterebbero un autentico sconquasso del territorio. Oltretutto non vi sarebbe un beneficio reale per il trasporto ferroviario, si legge ancora all'interno dell'articolo estrapolando appunto le dichiarazioni rese dallo stesso Baldelli che conferma appunto l'intenzione da parte del governo, assecondata dal governo regionale, di dirottare quegli 1,8 miliardi di euro originariamente previsti per il bypass su Pesero e Fano sul potenziamento della linea adriatica. A fianco di Baldelli e comunque dell'intenzione di cancellare il bypass ferroviario anche i 5 Stelle. Dal resto del Carlino leggiamo un comune sì e l'altro no, pure i 5 Stelle bocciano il bypass, secondo la consigliera regionale Ruggeri e il coordinatore Marchigiano Fede non si possono fare ragionamenti localistici come quello che presiederebbe alla realizzazione del bypass ferroviario su Fano e Pesero. È una politica basata sugli annunci che ha poco a che fare con la realtà, questa la considerazione di carattere generale degli esponenti pentastellati secondo i quali andrebbe spostato il traffico dei treni merci e dell'alta velocità in una linea delicata. Arretrare la ferrovia per i pochi chilometri che interessano la città di Pesero costerebbe quasi 2 miliardi di euro contro una spesa complessiva di 5 per il potenziamento dell'intera linea da Bologna a Taranto per centinaia di chilometri. La valutazione sulla base della quale appunto Ruggeri e Fede si pronunciano contro il bypass. A questo riguardo però il Corriere Adriatico fa notare come il nodo arretramento contrapponga i 5 Stelle proprio ieri era stato dato conto del parere espresso dall'assessore Ferenquellucci che fa parte della giunta comunale pesarese in quota 5 Stelle che si era esplicitamente espressa a favore del bypass ferroviario. Ora gli altri temi più strettamente dedicati a Fano e in particolare sul resto del Carlino quello delle strutture alberghiere che versano in stato di degrado il caso più eclatante quello dell'ex hotel Riviera dove è sorta nel frattempo una sorta di discarica abusiva per l'ecomostro c'è comunque una speranza. L'architetto Pierini che aveva redatto anni fa il progetto di riqualificazione sottolinea come la società proprietaria sia intenzionata a portare avanti il progetto di riqualificazione già autorizzato. Non credo, aggiunge la Pierini, che i proprietari siano al corrente dell'uso improprio che se ne fa. In particolare all'interno dello scoperto adiacente all'ex hotel di proprietà della progetto SRL la società di Cattolica che aveva appunto anche formulato il progetto di riqualificazione ignoti continuano ad accumulare materiali di scarto di cantieri edili. Una situazione indecorosa alle porte della città e a pochi passi da un'area di sosta per i camper segnala ancora il Corriere Adriatico che riferendo ancora le parole dell'architetto Pierini sottolinea come ci siano state difficoltà a partire da quel 2018 nel dare corso all'intervento che avrebbe portato alla realizzazione di una struttura ricettiva a tre stelle. Il costo previsto allora era di un milione di euro, costo prevedibilmente ora raddoppiato ma la proprietà sembrerebbe appunto orientata, ora riprendere in mano l'iniziativa. Il tema degli alberghi abbandonati e non più utilizzati è un tema che ha attraversato le amministrazioni degli ultimi anni e a questo riguardo da segnalare come sia stato convocato per questo pomeriggio il tavolo economico chiamato a discutere fra gli altri punti anche il piano particolarizzato delle strutture ricettive che l'assessore al turismo Santorelli intende appunto elaborare individuando uno dei punti salienti proprio nel rilancio delle strutture alberghiere. Strutture dismesse serve un piano di recupero e anche l'opinione del presidente di Confesercenti Fiorelli. La riqualificazione dell'hotel Playa avvenuta nei mesi scorsi è un segnale importante. Il quinto nostro hotel a 4 stelle su 33 totali. Restano altri casi però spinosi in ballo oltre a quello dell'hotel Riviera. Anche in particolare l'Elisabeth 1 e l'Europa a Lido oltre alla Residence Arzilla per il quale appunto abbiamo appreso nelle settimane scorse il progetto di recupero sembra prossimo al decollo. E a proposito di litorale, sul resto del Carlino anche l'indicazione che sono ripartiti i lavori tra Regina Beach e Hotel Playa a protezione della spiaggia, intervento da 8 milioni per la difesa della costa anche in vista degli eventi meteorologici avversi scogliere che avrebbero dovuto essere posate già nel 2023 e non se n'è fatto nulla neppure. In vista della stagione turistica 2024 si legge all'interno dell'articolo ieri l'annuncio da parte dell'assessore alla difesa della costa Tavenamelli che l'operazione appunto è stata riattivata. Sul Corriere Adriatico dalle pagine fanesi invece è sempre riguardo ad una questione in qualche modo legata la notizia che sarà Fano a indire la gara d'appalto riguardo allo spostamento e il deposito dei fanghi del porto compito affidato dall'autorità portuale per il trasferimento nella vasca di colmata di Ancona. Si tratta dei fanghi che sono stati dragati a più riprese dal porto di Fano e che sono stati accumulati in banchina e nell'area che avrebbe dovuto ospitare il progetto Fantasy World. Nel dettaglio si parla di oltre 5.000 metri cubi accumulati al porto e di altri 15.000 che sono stati invece trasferiti nell'area di Torrette Corriere Adriatico che ricorda come dal 2008 sia in piedi un accordo di programma che prevede lo spostamento dei fanghi nella cassa di colmata di Ancona dove è stata ritagliata una quota proprio a favore di Fano da allora appunto non si è ancora dato corso all'iniziativa ora sembra arrivata l'ora giusta. Corriere Adriatico che si dedica di nuovo anche ai lavori su Piazza Costa facendo il punto assieme all'assessore ai lavori pubblici Lari che pubblicamente ha tracciato il quadro in occasione dell'ultimo consiglio comunale Piazza Costa gettata nel settore 2 e spazio ai commercianti in pratica l'intendimento degli operatori in linea con l'amministrazione comunale è quello di procedere alla gettata in cemento anche nel settore 2 così come è stato fatto nel settore 1 per orientare su quelle zone gli ambulanti e poi concentrarsi appunto sul settore 3 che riguarda i rivenimenti archeologici si è discusso in particolare di questo in consiglio comunale su iniziativa del capogruppo del PD Fanesi potrebbe essere particolarmente fertile dal punto di vista dei rivenimenti perché in quell'area è stato ricordato in epoca medievale insistevano giardini e dunque non sono stati eseguiti rimaneggiamenti come invece nei settori 1 e 2 altro tema che viene affrontato dalla Corriere Adriatico è quello dell'area scoperta del Vittoria Colonna che sulla base dell'intesa tra comune e invimit promettare del complesso sarà destinata a parcheggio sosta all'ex Vittoria Colonna via libera dal 1 dicembre questa è la data calendarizzata dall'amministrazione comunale per rendere fruibile quell'area gli stalli dovrebbero essere fra i 40 e i 50 preliminarmente la proprietà dovrà procedere alla rimozione della vegetazione toccherà invece al comune sulla base della convenzione che è stata siglata proprio in questi giorni delimitare gli stalli e illuminare anche appunto lo spazio scoperto da adibire a parcheggio si legge all'interno dell'articolo come l'operazione abbia una doppia finalità da una parte naturalmente a aumentare la dotazione di posti auto al servizio del centro storico e anche della scuola corridoni di via Cavour che soffrono appunto la mancanza di parcheggi ma anche istituire un nuovo elemento di presidio per scongiurare definitivamente il fenomeno delle incursioni abusive Corriere Adriatico che si dedica anche al sottodimensionamento del commissariato anche questa una questione che si trascina da tempo la consigliera regionale del PD Vitri sottolinea il silenzio della regione che non ha ancora discusso la mozione sul tema che la stessa Vitri ha presentato più di un anno fa spostandoci ora alle pagine regionali del Corriere Adriatico al tema dell'economia spazio alla fondazione Merloni alla classifica che annualmente viene stilata e che fotografa lo stato di salute delle aziende marchigiane imprese addio al trend di crescita tengono redditività e occupazione questa è la sintesi che il Corriere traccia della classifica che vede Ariston Group confermarsi in testa lo stesso podio della 2022 Conad Adriatico e Toz al secondo e terzo posto più in generale sembra essersi esaurito afferma il Corriere il fenomeno di rapida ripresa del bienio 2021-2022 quanto al dettaglio della classifica e la presenza di aziende del territorio al sesto posto la Profil Glass che occupava il quarto nel 2022 questo con una variazione delle vendite negativa per il 17% al settimo posto la BS che conferma il piazzamento di un anno fa mentre al tredicesimo si colloca la Team System occupandoci invece delle pagine pesaresi dei due quotidiani ancora una volta sul resto del Carlino in evidenza il caso Affidopoli con l'inchiesta in corso su quelli che sono stati definiti gli affidamenti facili da parte del Comune alle cooperative Opera Maestra e Stella Polare Affidopoli tocca al superperito analizzerà mail e chat degli indagati la Procura cerca prove sul regista così viene inquadrato quanto avverrà oggi con l'incarico al consulente tecnico che dovrà scandagliare PC e telefoni delle cinque persone coinvolte dei dispositivi è stata effettuata una coppia forense durante le perquisizioni delle scorse settimane appunto l'obiettivo degli inquirenti è cercare di capire se esista in qualche modo un regista dietro questi affidamenti disinvolti ancora dal resto del Carlino e venendo al tema delle bollette dell'acqua le parole di Alessandro Licurgo direttore provinciale di Confesercenti riguardo ai rincarichi delle bollette dell'acqua che sono stati decisi in sede Ato denuncia Licurgo Aset e Marche Multiservizi macinano utili a pagare sono i cittadini sono dovuti agli investimenti sulla rete idrica si chiede riguardo ai rincari annunciati gran parte dei fondi arrivano dal PNRR fa osservare lo stesso Licurgo che nel dettaglio spiega come su 27 milioni gli investimenti previsti appunto dalle partecipate 20 arrivino proprio dai fondi del PNRR e questo appunto cancellerebbe dal tavolo la giustificazione che è stata adotta più prettamente pesaresi il tema del mercato con il comune che viene messo sotto accusa da Valerio Tamburini uno dei rappresentanti degli ambulanti di San Decenzio che lamenta il mancato mantenimento delle promesse elettorali dalla riduzione degli spazi vuoti agli allagamenti in caso di pioggia impegni appunto che non sono stati rispettati impegno rispettato invece per la riqualificazione del campo di Vismara danneggiato dall'alluvione del 2023 Vismara un calcio all'alluvione rifatto il campo che finì sott'acqua finalmente torniamo a casa così dirigenti tecnici e soprattutto tesserati del Vismara festa per l'inaugurazione a 17 mesi di distanza dal maltempo che devastò la struttura sportiva il presidente Parlani commenta temevamo tempi lunghissimi invece siamo già qui grazie a tutti fu scioccante ricordano gli assessori Puzzi e Dalladora che hanno presieduto all'inaugurazione vedere quanti danni fece appunto l'alluvione sull'impianto che era stato rifatto da poco dall'arresto del Carlino e sempre sfogliando le pagine riservate al capoluogo spazio anche all'avvicendamento alla guida della Confcommercio Provinciale Trufelli prende il posto di Varotti ma lui rientra dalla finestra così appunto il Carlino inquadra il turnover alla guida della Confcommercio Provinciale con Agnese Trufelli attuale vice di Varotti che sarà di nuova figura di riferimento dell'organizzazione Pro Tempore con Varotti che comunque manterrà il ruolo di consulente responsabile di itinerari della bellezza l'iniziativa di cui è stato fautore e comunque conserverà anche la segreteria di Feder Alberghi sempre in tema di associazioni di realtà che operano sul territorio la indicazione che una società guidata dal presidente di Aspes Pieri sia l'unica candidata a realizzare gli eventi del Natale pesarese si chiama Convention Bureau e ha tra i soci la stessa Aspes Pesaro Parcheggi e APA Hotel è stata l'unica candidata al bando da 139 mila euro quanto invece al Corriere Adriatico sempre all'interno degli spazi dedicati al capoluogo l'acquisizione dell'area di Porta Capuccina da parte del Comune che ha liquidato i privati ma all'interno di quell'area si assiste ad una sorta di Camel Trophy Park si archivia definitivamente un condenzioso che si è trascinato per anni nel dettaglio il Comune ha liquidato alla proprietà 44 mila euro l'area però ora completamente pubblica resta in condizioni disastrose una distesa di buche ed avvallamenti che va sistemata con urgenza in tema di viabilità poi le indicazioni date dal sindaco Biancani che vuole più Zole 30 e via le auto da Piazza del Popolo come ha affermato anche nei giorni scorsi tra le indicazioni arrivate dal neosindaco anche la realizzazione di un maggior numero di parcheggi Corriere Adriatico che recepisce anche la protesta dei residenti di via 11 Febbraio a Pesaro che si definiscono ostaggi della sosta selvaggia in pratica si definiscono prigionieri in casa alle prese con il mancato rispetto di divieti e passi carrabili situazione diventata insostenibile il comune venga a verificare la sollecitazione appunto che arriva dai cittadini che risiedono in quella zona ancora dalla Corriere Adriatico anche le imminenti elezioni dei consigli di quartiere i quartieri si preparano ad andare al voto questo è il titolo alle urne il primo dicembre si tratterà di un termometro di gradimento politico mentre per quello che riguarda gli eventi quello che si è celebrato ieri alla caserma del monte il pavia in missione in Libano onore e orgoglio per l'impegno e il virgolettato che riassume la gratitudine di Pesaro al reggimento di stanza alla caserma attestato che è avvenuto in occasione della cerimonia del 4 novembre venendo invece agli argomenti inerenti all'interno in primo piano ancora una volta dal resto del Carlino il dramma infinito della famiglia di Riccardo Branchini il 19enne di Acqualagna scomparso il 12 ottobre scorso la mamma pubblica ancora le foto non strappateci la speranza questo è il suo appello la donna parla di ore interminabili domani il vertice in prefettura per decidere sullo svuotamento della diga del furlo funzionale a perlustrare alcune grotte che altrimenti non sarebbero appunto indagabili da parte dei soccorritori sempre dall'arresto del Carlino e venendo alla cronaca la denuncia che arriva da San Giorgio di Pesaro dove i ladri sono entrati in azione nel ponte di Ogni Santi blizze nel ponte dei morti ladri in fuga con sette fucili il furto si è verificato a San Giorgio di Pesaro i banditi hanno scardinato l'armadietto di sicurezza contenente pure ori e contanti indagano i carabinieri le vittime erano fuori per le feste a rientro hanno trovato il loro appartamento a soquadro della questione si occupa anche il corriere adriatico segnalando come cittadini invochino due spy cam per arginare il fenomeno dei ladri ma anche quello dei vandali spy cam che sarebbero da collocare all'ingresso di San Bartolo e all'uscita della frazione di Vergineto sempre per la cronaca anche quanto avvenuto a Fossombrone ragazzini bloccati dai militari si trovavano sul tetto dell'ex casa di riposo l'edificio è fatiscente le scale a rischio crollo violata la proprietà privata dai minori che sono stati identificati sono state avviate le procedure che vengono adottate in queste occasioni tornando invece a Fano e restando però nell'ambito della cronaca anche l'incidente stradale avvenuto in via Cavallotti riparte si scontra con un'auto in transito paura in via Cavallotti ma nessun ferito nell'impatto che ha visto coinvolti una Toyota e una Fiat punto sempre per la cronaca il lutto del mondo della cultura per la scomparsa a 77 anni della professoressa Maria Grazia Battistoni appassionata ricercatrice studiosa delle donne partigiane e del movimento femminista è scomparsa nel giorno del suo compleanno cordoglio espresso in particolare dall'Ampi tornando al territorio anche la notizia che sono partiti a San Costanzo i lavori per il recupero della Fontana dimostra che per Natale tornerà a zampillare e questo l'auspicio formulato dal sindaco di San Costanzo Carbone per la storica vasca fuori uso ormai da più di due anni quanto invece alla pagina che il Corriere Adriatico riserva ad Urbino si parla del futuro dell'ERDIS a farlo il segretario del PD Urbinate Ubaldi rappresentanza all'ERDIS Gambini concordi la scelta e l'invito rivolto al sindaco per individuare la figura che rappresenti il comune all'interno dell'ERDIS dove si è creato un vuoto a seguito delle dimissioni della presidente Maura Magrini atto che lo stesso Ubaldi critica apertamente quanto invece al resto del Carlino sempre dal territorio si occupa anche di quanto avviene a Marotta dove di nuovo fuori uso l'ascensore del sottopasso la denuncia del consigliere Gentili in merito all'impianto di via Ariosto da due mesi K.O. Riguardo invece agli eventi in primo piano la domenica vissuta a cartoceto nel segno del festival dedicato all'olio e all'oliva festival dell'olio DOP buonissima la prima prodotto eccellente tante olive peccato la resa è il punto fatto da Tommaso Maggioli del frantoio del trionfo per 8 litri servono 100 frutti i prezzi sui 20 euro della domenica inaugurale di cartoceto dopo il festival si occupa peraltro anche il corriere adriatico l'olio all'oliva al traguardo dei 20 anni dei prodotti DOP ventennale che è stato uno dei motivi di questa prima domenica e il prossimo appuntamento anche in previsione della settimana da capitale della cultura che cartoceto si appresta a vivere dall'arresto del Carlino invece tornando al territorio anche l'addio a Maria Cappuccini signora della moda aveva creato un polo dell'abbigliamento a Fermignano la scomparsa a 87 anni il funerale oggi a Calpino e siamo così al termine di questo appuntamento con Occhio ai giornali come sempre grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata grazie per la visione